Namaste, io sono East Brave, bentornati ad un altro episodio di Warcraft 3 Reforged in questa campagna degli umani che ci ha portato completamente da un'altra parte rispetto all'inizio all'Orderon, siamo nel profondo nord e con il capitolo 8 di senso, il mattino seguente nella nuova base di Arthas che effettivamente ha lasciato il suo territorio che è quello che aveva profetizzato il profeta gli umani devono lasciare la zona principale però al punto il principe sta abbandonando il suo popolo perché sta inseguendo in questa missione quasi suicida Malganis che ha causato tanto tanto fastidio creando i non morti capitolo 8 di senso, vediamo che cosa succede che cosa ti porta in questo luogo desolato per editto reale gli uomini devono tornare immediatamente all'Orderon Sir Uther ha convinto il re a richiamare questa spedizione e dovremmo andarcene così? esatto, i miei uomini riferiscono che le strade tra qui e la costa pullulano di non morti dovrete trovare una via alternativa per tornare alle navi al diavolo i non morti ci faremo strada attraverso i boschi uomini ci faremo strada attraverso i boschi quindi interessante situazione capitano, perché le guardie non sono ai loro posti? signore, vostro padre ha richiamato le truppe su richiesta di Sir Uther Uther ha fatto richiamare le mie truppe! dannazione! senza i miei guerrieri non riuscirò mai a sconfiggere Malganis le navi devono essere bruciate prima che gli uomini raggiungano la riva non è un po' troppo ragazzo? riducetele in cenere! nessuno tornerà a casa finché non avremo completato il lavoro cattiveria di Arthas ragazzi, sempre peggio sempre peggio Arthas comunque ci viene detto di distruggere le navi questa è una missione in cui non abbiamo una base effettivamente brucia le navi, distrugge le 5 navi il contro la rovescia non deve raggiungere lo zero abbiamo 25 minuti per distruggere Sir Uther ha ordinato che la tua spedizione faccia il ritorno in patria per impedire che gli uomini abbandonino la ricerca di Malganis devi bruciare le navi prima che si raggiungano le coste ghiacciate interessante tra l'altro anche proprio per come è costruito il tutto perché quando è uscito Warcraft 3 per chi aveva giocato a Warcraft 1 e 2 aveva come la sensazione all'inizio che ci fossero i buoni e i cattivi quindi gli umani buoni e gli orchi cattivi in realtà Warcraft 3 comincia a introdurre questa questa sovversione no come si dice questo contrario perché nel prologo abbiamo comandato gli orchi e gli orchi si sono dimostrati interessanti con Tral questo personaggio allevato sì dagli umani ma comunque che ha buon senso e poi andiamo a comandare Artas che in realtà sta facendo relazioni molto negative quindi andiamo pure avanti ci mettiamo questo come potenziamento e andiamo pure avanti perché non abbiamo nient'altro da fare se non avanzare ho trovato alcuni accampamenti di mercenari forse possiamo assoldarne qualcuno possiamo assoldare il mercenario abbiamo unità a distanza e due eroi a corpo a corpo quindi vediamo se ce la facciamo ad assoldare un po' di gente man mano che avanziamo da questa parte le nostre forze sono sotto attacco come facciamo ad arrivare qua? la prima legione dobbiamo arrivare lì? qua abbiamo un ragno del crit tu hai la possibilità di farlo prenditi questo e tra l'altro hai anche apprendi avatar la possibilità di attivare il potere dell'avatar che è fighissimo secondo me andiamo pure avanti di qua vediamo come è fatto non me la ricordo tanto bene questa mappa è molto diversa sembra che Uther si è dannato per avermi costretto a questo ora di spaccare chi debbo freddare chi debbo freddare giustamente parlano in ok abbiamo preso un po' di gente uniamola al gruppo e vediamo di continuare andiamo qua a nord prima ma possiamo attaccarli da lontano giusto abbiamo gli ogre io posso piazzare i miei questi sopra e distruggere le cose molto più facilmente però va bene anche così facciamo l'avatar che bello vedete il modello dell'avatar scusate guardate che bello fighissimo sono molto contento del modello dell'avatar veramente figo ok detto questo continuiamo verso il basso dobbiamo curare questo dove se no chi è che sta curando ah tu c'è un troll che cura lì abbiamo possibilità di comprare a distanza no bisogna ritornare indietro ovviamente a sistemare un po' le cose ho perso qualche unità il numero di giri in azione te lo provi tu e distruggiamo la prima nave molto bene ma ci sono altre navi di cui occuparci torniamo un attimo indietro e poi andiamo avanti di nuovo torniamo un attimo indietro così riesco ad acquistare ancora qualche truppa visto che comunque mi stanno arrivando risorse perché ci sono questi allora tiriamo su uno ora di spalcare tiriamo su tutti c'è pericolo voi state sul gruppo uno andate di qua e chi non ho preso lo mettiamo sul gruppo due sputer rospo allora e torniamo allora da questo lato qua io combatto per luce e vediamo pure di continuare forza ragazzi bonchi bonchi quindi voi voi che cosa avete la luce è la mia forza tu hai schianto del tuono è percossa tu hai cura voi due siete a posto voi due siete a posto voi due siete a posto quindi posso usare i primi due i due eroi e basta fondamentalmente andiamo sputer rospo oltre il ponte potrei anche cliccare tantissimo alle varie persone ma è un po' la luce è la mia forza ascoltate il suo bisogno freddo assai freddo assai doveva portarmi in un maglione è stata fermo tieni del burro di cacao che hai da guardare allora ho sete di vendetta ho fame di pancetta oh l'hanno tenuta ti ho anche è stato lui no è stato lui che hai da guardare il troll di ghiacci cosa dice il sacerdote sputer rospo ah stessa cosa ok perfetto allora possiamo pure andare avanti con una pozione di cura che si prende il tizio e andiamo sono qui per aiutare sputer rospo sputer rospo ma soprattutto distrugge io combatto per la luce abbiamo due unità qua in più adesso ho visto senza pensieri abbiamo anche un regime ah ci ha ucciso l'intacco questo è tuo assaggia la mia ira assaggia la mia ira assaggia la mia ira tutti avanzano qui per aiutare sono anche dei murlock in giro ah ci sono un po' di mercenari qua dai capisco capisco chi debbo fruttare c'è pericolo io combatto per la luce la luce è la mia forza aspettate facciamo un attimo c'è solo qui per aiutare c'è un mago la luce è la mia forza giustizia sarà fatta io combatto per la luce che ho da guardare c'è qualcuno che può prendere questo? credo proprio di sì perfetto allora dicevamo prendiamo questi giustizia sarà fatta e mettiamo il gruppo 1 c'è pericolo perfetto poi il gruppo 2 diventa io combatto per la luce eh più o meno questi giustizia sarà fatta allora il gruppo 1 è questo allora li facciamo un attimo in fila perché sono un casino allora mago ogro voi andate su 2 voi andate su 1 la luce è la mia forza sono qui per aiutare giustizia sarà fatta voi andate su 1 e voi andate su 2 la luce è la mia forza tutti a nord va bene io combatto per la luce giustizia sarà fatta va bene c'è pericolo ok adesso ci siamo come ordine la luce è la mia forza fate il giro uh abbiamo una gilda anche qua la solda di ingegneri serve più oro inquastatori per attaccare gli alberi ah giusto c'è il discorso che loro possono attaccare gli alberi e quindi gli alberi che sono qua c'è pericolo vado quindi voi venite giù un attimo da stingo da stingo che succede e voi dovete attaccare gli alberi quindi se mi metto in automatico attaccate in automatico sarà una vera bomba clicca con il bussato destro efficace contro strutture e alberi qua e via che si va come funziona? non mi ricordo sta cosa ah ok ah questo è per difesa quindi faccio boom qua e adesso posso passare adesso mi ricordo va bene terza abbiamo ancora un quarto d'ora mi permesso? va bene c'è un po' di gente da prendere qua voi state qua fuori io combatto per la luce prendiamo un paio di ore serve più oro ah si prendiamo un paio di ore tu entro nel gruppo 2 sono qui per aiutare tutti di qua abbiamo di mercenari con l'entrappolamento? no abbiamo dovuto sfruttare le bambini ci siamo persi ci siamo presi l'alba bronze tu devi finire nel gruppo 1 no ma anche nel gruppo 1 tutti qua sei un po' lento per essere un umano c'è pericolo procediamo adesso arriva anche il nostro amichetto uh e adesso? eh si c'è un'altra nave che però c'è un sacco di gente non attaccare il torre del zogero attraversa rapidamente il canyon riduce le pendente mandando avanti la gente ok adesso vedremo di fare questa cosa ma non sono qui per aiutare che succede? andiamo dire a te? io combatto per la luce andiamo dire a te qua dai procediamo andiamo ragazzi ce ne freghiamo di sta cosa insomma ci mettiamo 5 anni le nostre forze sono sotto attacco avanti avanti ragazzi sono qui per aiutare la luce è la mia forza pronto e in attesa di ordine c'è pericolo abbiamo un po' di gente ma potrei anche curarla ma sono qui per aiutare che succede? siamo suprisciuti si rimane una sola nave checkpoint è del via pronto e in attesa di ordine sono qui per aiutare sono qui per aiutare sono qui per aiutare sono qui per aiutare però c'è che possiamo la luce è la mia forza buona idea la luce non vi ho in attesa di ordine c'è pericolo che succede? vogliamo farci strada qua sono qui per aiutare io continuo a curare gente con Arthas sono cadaveri miei la luce è la mia forza intanto sta morendo tutto il mondo sono qui per aiutare procediamo giustizia c'è l'ultima nave qua in Arthas sono qui per aiutare Arthas in prima fila per magno si può prendere una di questo no non è magno è murabend il nostro Arthas è quasi a livello 10 anche come non ci sono in Italia le Arthas ah ok bello animazione sono qui per aiutare sei un po' lento per essere un umano io combatto per la luce procediamo è che ci siamo c'è pericolo che succede? che succede amico? ultima nave sei un po' lento per essere un umano yes ce l'abbiamo fatta navi bruciate e possiamo tornare a casa? no non possiamo più tornare a casa principe Arthas presto guerrieri queste maledette creature hanno incendiato le navi e vi hanno impedito di tornare a casa uccidiamole tutte in nome di Lordaeron dannate bestie uccidiamole tutte falsissimo Arthas le nostre navi sono distrutte ora che facciamo? ascoltatemi tutti non c'è altra via se non quella della vittoria vinceremo o moriremo uniti in questa terra ora tornate alla base e riprendete i vostri posti falsissimissimo Arthas vedremo cosa succederà qui nel prossimo episodio se finalmente raggiungeremo Malganis sui